Si sono fatti trovare preparati i docenti dell'Istituto Comprensivo Umberto I di Lanciano. La didattica a distanza era già una realtà affermata da sette anni nella scuola diretta da Anna Maria Sirolli con la piattaforma Google Classroom. Così la sospensione delle attività scolastiche a causa dell'epidemia da coronavirus non è stata affatto un problema. Noi innanzitutto abbiamo da subito attivato la didattica a distanza perché comunque avevamo una lunga esperienza in questo senso in quanto da più di sette anni la nostra scuola lavorava con le risorse di Google App for Education e tra l'altro il corpo docente era formato sull'utilizzo delle nuove tecnologie. Pertanto immediatamente abbiamo dato ai computer i notebook che avevamo in disponibilità assegnati alle LIM oppure assegnate alle varie classi e quindi abbiamo consegnato circa una quindicina in prima battuta. Successivamente il ministero ha stanziato un apposito fondo e ne abbiamo comprato 20 notebook e ulteriori altri 6 tablet. Attualmente sono stati conferiti altri fondi con un PON che ieri è stata resana tra gradatore per cui abbiamo altri 13 mila euro con i quali possiamo acquistare altri notebook. Nel caso specifico non ne abbiamo previsto l'acquisto di altri 20. Una trentina finora le attrezzature consegnate e incomodato d'uso. A prepararle è l'animatore digitale della scuola, il docente Vincenzo Folchi. Ai quali i tablet e i portatili poi sono stati strutturati affinché l'alunno poi possa entrare all'interno del portatile e del tablet e con una password data a tutti quanti l'alunno può seguire le lezioni e attivarsi nella didattica a distanza. Com'è la scuola ai tempi del Covid? La scuola ai tempi del Covid è una scuola molto silenziosa è una scuola deserta, una scuola dove non si sentono voci non si sentono lezioni, non si sentono anche le urla dei bambini e dei ragazzi diciamo che è una scuola un po' triste però è una scuola che è sostituita dalla didattica a distanza con la quale cerchiamo di entrare in relazione con i nostri alunni per far sì che essi possano continuare il percorso di apprendimento già iniziato nel corso dell'anno scolastico. Chiaramente la didattica a distanza non ha la stessa valenza della didattica in presenza perché manca quel contatto fondamentale il contatto di sguardi, fatto di sguardi, di atmosfere anche di relazioni quindi penso che forse la cosa che manca maggiormente è proprio il contatto relazionale sia tra i docenti ma anche tra l'alunno ed alunno.